Un'auto della stampa colpita da un lancio di San Pietrini a Torino, dove era in corso una protesta degli anarchici del FAI, dopo l'operazione della questura che ieri ha portato a tre arresti legati all'aggressione di un fotografo torinese. Per gli anarcho-insurrezionalisti il collidiano torinese è un fogliaccio e la stampa in generale, non solo quella di Torino, dicono, è nel mirino. Vi odiamo, dicono apertemente rivolti, ai giornalisti definiti pennivendoli. Attaccati insieme agli investigatori, le spie, come si legge nella lettera inviata al secolo XIX ieri mattina, ora nelle mani degli inquirenti. È il fronte rivoluzionario internazionale, cellula Damiano Bolano, a rivendicare il pacco bomba inviata alla stampa e nel testo si legge come il giornale piemontese, sia uno dei tanti giornali di regime, perciò ogni singolo pennivendolo è possibile obiettivo della nostra guerra contro lo Stato e la società che lo sostiene e ne legittima ogni giorno l'esistenza. L'azione, proseguono gli anarchici, segue la campagna iniziata dal nucleo e Olga, quelli dell'attentato ad Adinolfi. Un'azione violenta rivendicata dalla federazione anarchica informale, la stessa che avrebbe spedito il pacco bomba alla sede della stampa martedì scorso e il giorno dopo all'agenzia di investigazioni Europol di Brescia. Stessa firma per coloro che nel maggio 2012 gambizzarono a Genova l'amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, definito lo stregone dell'atomo. Sulle azioni di Torino stanno indagando i magistrati torinesi e bresciani, alla stampa e all'Europol, sono arrivati plichi esplosivi identici. Forse è un errore il pacco esplosivo inviato a Brescia, dovuto al nome dell'agenzia che nulla ha a che vedere con l'organismo di polizia europeo.